Dunque Blue Economy dal mio punto di vista, appunto Blue o un altro colore non importa come anche Gunther Paoli ha detto nella conferenza, è molto importante per me nel senso di cambiare logica di modello di sviluppo e quindi la logica di modello di sviluppo che deve vedere le radici nel territorio e la testa nel mondo, questo è un punto e non solo ma l'importanza delle regioni sostenibili che devono guardare alle loro caratteristiche, ai loro prodotti, ai loro scarti, alla loro biodiversità e ai loro problemi sociali e ambientali, trovando delle risposte all'interno del territorio e quindi creando attraverso l'economia della conoscenza soluzioni che possano risolvere il problema e quindi i prodotti nuovi che andiamo a sviluppare non sono un altro prodotto che si accumula con gli altri, ma è un'opportunità per risolvere problemi sociali, ambientali e economici nella logica del vivere nel limite del pianeta, è Expo che fa qualcosa per il paese e quindi siamo tutti molto contenti di questa iniziativa, noi siamo presenti in una serie di iniziative, certamente la più importante è tutto il prodotto di food service, quindi piatti, bicchieri, posate eccetera che stiamo utilizzando attraverso Italy, quindi Italy ha scelto questi prodotti e è la prima volta che questo tipo di prodotti arriva sul mercato, perché le posate c'erano già ma i piatti per esempio resistenti alla temperatura che hanno caratteristiche anche migliorative rispetto ai piatti tradizionali e poi degradabili in un ciclo di compostaggio è la prima volta che vengono inseriti, però anche il ciclo della raccolta di questo rifiuto con Italy viene fatto in modo interessante e tutto biodegradato negli impianti di Montello e quindi con una possibilità di studiare anche il circuito del rifiuto e di vedere come un rifiuto si trasforma in risorsa, in metano, in CO2. Io credo che l'alleanza debba essere con le persone di buona volontà che superino il concetto di egoismo del business e riescano a pensare in modo più inclusivo, certamente questa è una caratteristica più verso le donne e quindi questo aspetto è un aspetto che credo sia importantissimo da coltivare, da sviluppare, l'iniziativa Women for Expo penso sia un modo per coalizzare meglio le forze positive che sicuramente ci sono e anche mettere insieme donne che magari hanno sviluppato nel loro interno, nelle loro aziende, nei loro territori iniziative, metterle al sistema può aiutare moltissimo a creare una casistica interessante da utilizzare per la declinazione di ciò che bioeconomia significa a livello europeo, perché ricordiamoci che quest'anno abbiamo COP21, abbiamo il Green Act per l'Italia, abbiamo molte iniziative importanti, è un momento decisivo per avere una visione più lunga, magari possiamo aiutare come donne ad aumentare la lunghezza di questa visione.